la lotta è tra Dea Daniel e Dea Dora Dino che sono le più veloci con Dea Dora Dino che scavalca Dea Daniel a largo naviga invece il quattro di Dandelion che si porta subito ai fianchi di Dea Dora Dino seguita da Deemilia RL da Divina Fonte 200 metri in 14.2 con Dandelion che passa al comando davanti a Dea Dora Dino Dea Daniel Deemilia a largo di dentro Dantour Rebel che è partito bene dalla seconda fila a largo Drogo Run e si affronta così la prima curva con Dandelion leader e un parziale in 29 scarsi in seconda posizione sempre Dea Dora a precedere Dea Daniel Downtown Rebel Deemilia a largo seguito da Drogo Run e via via tutti gli altri 600 metri iniziali di Dandelion in 44.4 posizioni che non mutano tranne che Giuseppe Borso Junior dalla quarta posizione muove a largo e si pone ai fianchi di Dea Dora Dino quindi nei pressi della battistrada Dandelion che nel frattempo arriva in 1.004 ai 800 metri da 1.15.4 scatta dal fondo gruppo a centropista Drogo Run che aumenta la sua progressione squalificato nelle prime posizioni un chilometro di Dandelion in 1.15 lo scatto a centropista di Drogo Run che apparì a Dantour Rebel che si protrae a largo di Dandelion i tre seguiti sempre da Diadora Dino prosegue la terzia in lotta e così si entra in dirittura arrivo con Dandelion sotto la pressione di Dantour Rebel e di Drogo Run Drogo Run forza dei tempi a centropista Dantour Rebel e Dandelion comunque reggono ancora l'onda d'urto dell'allievo guidato da Lorenzo La Rosa che comunque ai 200 finali tende a passare su entrambi muove anche da dietro Darkness in calo Dea Daniel passa ai 150 finali Drogo Run che mette la figura avanti a tutti Drogo Run e Lorenzo La Rosa segna in questa corsa d'apertura davanti a Dandelion Dantour Rebel Darkness e Dea Daniel 2.01 appena scarsi 1.15.4 il successo di Drogo Run i colori è il signor Salvatore Varisco il training è quello di Carlo Giordano da catch Lorenzo La Rosa al secondo posto ancora Dandelion che ha provato con denti stretti da difendersi dagli attacchi ma in fondo ha dovuto cedere al maschio da upfront Larry al terzo chiude ancora il numero 9 di Dantour Rebel dopo aver girato per oltre un chilometro all'esterno quindi sei al primo posto quattro al secondo 9 al terzo si parte ciclone di celle catch me boss i più veloci con quest'ultimo che scavalca l'avversario si pone al comando a largo si fa subito sotto il numero 6 di Castleton Wise S catch me boss leader con 200 metri in 14 spaccati si presenta Castleton seguito da Cupido degli Dei in terza ruota i cavalli affrontano così la prima curva con catch me boss e Castleton Wise S alle prese 28 e mezzo di parziale il galoppo di Cupido degli Dei in terza ruota così Castleton Wise S trova posto in corda secondo e si presenta Cavallo numero 4 squalificato i primi 600 metri se ne vanno in 44 spaccato con catch me boss leader davanti a Castleton Wise a largo Carizzo a largo Carizzo quindi ancora Camon Boy Fior quindi gli altri in pariglia e 800 metri iniziali 59 e mezzo cavallo numero uno squalificato la sua presenza a largo di dentro c'è sempre a seguire in corda Castleton Wise S senza spazio il chilometro in 1.14.2 comincia ad allungare catch me boss lo segue sempre Castleton perde qualche battuta Carizzo che comunque adesso si rifà di nuovo sotto quindi tutti gli altri con capeggiati da Camon Boy Fiorro e prova all'avanzata centropista Carlo Ferm Carizzo a cavallo numero 7 squalificato la Castleton Wise passa Carizzo a Castleton Wise Carizzo a Ols di dentro Carlo Ferm che avanza molto molto bene a largo e testa a testa 3-2 con Carizzo che ha preso la lunghezza di vantaggio all'avversario che comunque non perde il coraggio la gancia si avvicina ma sul palo Carizzo a Ols e Andrea Sessa a segno su Carlo Ferm quindi Cupido degli Dei e Camon Boy Fiorro 1.59.3 1.14.5 il successo di Carizzo a Ols partenza e arrivo da fuori per la porta colori alla signora Dalila Trigila il training è quello di Gaspero Verde alla guida Andrea Sessa che ha presentato una cavalla davvero super al secondo posto un ottimo Carlo Ferm che relega al terzo posto l'altro più atteso Cupido degli Dei quindi 9 al primo posto 8 al secondo 3 al terzo e l'ordine arriva numerico ma assolutamente ufficioso di questa seconda corsa dal Mediterraneo di Siracusa linea che può andare alla regia e si parte Sayano Lod è il più veloce si getta di galoppo in poche battute Urpidus avanza subito Via Lelib cavallo numero 5 e così è è arrivata la squalifica per Urpidus e Via Lelib è il nuovo leader davanti a appunto a Sayano Lod in terza posizione il 2 di Ardick di Meletro avanza subito Valgiammen il lancio è andato via in un 14 secco e così i cavalli affrontano la prima curva con Via Lelib e leader in 28.2 Sayano a precedere al Rick di Meletro Valgiammen a largo Aida Griff e gli altri a seguire si va sulla retta di fronte a buona andatura con Via Lelib che arriva ai 600 metri in 42.3 ha messo tra tra lui e Sayano Lod diverse lunghezze adesso forse tempi Valgiammen che va a scavalcare a Rick di Meletro e si pone in terza posizione a largo Aida Griff a metà gara in 57.4 due le lunghezze di vantaggio di Via Lelib su Sayano Lod Valgiammen in calo a Rick di Meletro Aida Griff che adesso passa a quarta siamo al chilometro Via Lelib lo tocca in 1 12.4 ed ecco che arriva Valgiammen prova a pararlo Sayano Lod che poi ritorna sotto Via Lelib e Valgiammen alle prese con Valgiammen che sembra poter prendere la meglio su Via Lelib che ha qualche battuta a vuoto si entra addirittura a rivo con Valgiammen che ha passato Via Lelib al suo inseguimento si pone Sayano Lod quindi ancora Aida Griff Valgiammen da favorito è passata al comando Sayano Lod ci prova comunque al suo interno a rimontare qualche lunghezza Valgiammen sembrerebbe però in controllo per il terzo Aida Griff ha superato Via Lelib Valgiammen da favorito in totale controllo su Sayano Lod che può essere solo secondo al terzo Aida Griff controlla il finale di Brillantax 1.58 1.13.7 il successo netto senza problemi di Valgiammen i colori sono quelli del signor Andrea Sessa che dopo aver vinto la Gentleman bissa da proprietario con il suo Valgiammen al secondo posto un comunque buono e valido Sayano Lod che relega al terzo posto il numero 8 di Aida Griff 1.48 e quindi l'ora di arrivo ufficioso di questa terza corsa dal Mediterraneo mezzo meccanico che stacca il galoppo di Bye Bye King Tony parte bene a largo Zorro Leo che scende in poche battute alla corda cavallo numero 5 davanti al 4 di Beyonce Jet Taborkaf Blue Moon e gruppo sfilacciato chiuso da Zwick del Circeo lancio in 13.3 con Zorro Leo che conduce davanti al numero 4 di Beyonce Jet 400 metri iniziali che se ne vanno in un veloce 27.3 in terza posizione Taborkaf a precedere Blue Moon Ungaretti Horse e il gruppo sfilacciato si va sulla retta di fronte parziale di 600 metri in 43.8 Beyonce Jet si affaccia a largo di Zorro Leo di dentro filtra Taborkaf la schiena di Beyonce viene presa da Taborkaf i cavalli transitano al mezzo miglio in 59.7 si prosegue in pariglie Zorro Leo Beyonce in terza ruota il 4 il 14 di Varano Jet di dentro sempre Taborkaf chilometro di Zorro Leo in 1.14.6 in seconda posizione c'è sempre Taborkaf e comunque il gruppo adesso si va ricompattando con Zippo B che avanza poi a largo di tutti siamo all'ingresso indirittura arrivo con Zorro Leo che adesso allunga Taborkaf fila tra l'interno di Beyonce Jet a largo prova avanzare anche Blue Moon a largo di tutti lo sprint di Ungaretti Ors Zorro Leo provo a mantenere il vantaggio ma si avvicina minaccioso Ungaretti Ors anche Blue Moon cala un poco Taborkaf filtra all'interno anche il 7 di Zwick del Circeo ed è Zorro Leo davanti a Zwick del Circeo Ungaretti di Ors Blue Moon Blue Moon 159 4 1 14 6 il successo di Zorro Leo i colori sono quelli del signor Gioacchino Cunetta il trend di Carlo Giordano al doppio in giornata dopo il successo con Drogo Run in apertura alla guida allo stesso Carlo Giordano al secondo posto un fantasmagorico Zwick del Circeo che era in ultima posizione autore di una progressione da doppio circoletto rosso viene a conquistare la seconda moneta davanti a Ungaretti Ors quindi 6 7 10 l'ordine di arrivo numerico ma ufficioso di questa quarta corsa dal Mediterraneo 2 quinti la quota di CRISPR al gioco della quota fissa 6 successi a seguire favorito netto vedremo cosa succederà per le piazze intanto CRISPR parte forte in poche battute si pone al comando c'è il sedante scuola si pone al comando con CRISPR che avanza subito spavardo all'esterno per probabilmente prendere l'iniziativa visto che su doppio chilometro Celeste Dante preferisce correre da dietro lancio in 14.4 Celeste Dante CRISPR che chiede strada e sta per ottenerla quindi Clio a seguire in terza posizione davanti a numero 1 di Cerelle SM siamo ai 400 metri percorsi di rallentamento in 30 e mezzo CRISPR con calma si pone in testa al gruppo davanti a Celeste Dante quindi ancora Clio Chanel delle Selve siamo ai 600 metri percorsi in 47 conduce a piacimento rallenta più che può Tonino Pecoraro e adesso avanza in maniera più decisa Canadian Wise L che si va a transitare tra la seconda e la terza posizione gli 800 metri vanno in 1 e 2 da 1 17 e 5 CRISPR Celeste Dante con allargo Canadian Wise quindi Clio con allargo Chanel delle Selve Carlino Wise via via gli altri squalifica per conquistador B e chilometro in 1 18 e 9 veramente parziali molto ridotti da parte del Battistrada che sta riducendo la corsa a una grande volata i 1.2 in 1.33 e mezzo 14 e 7 di frazione con Canadian che va a sussicare un po' di più CRISPR è seguito da Chanel delle Selve di dentro Celeste Dante con allargo Carlino Wise in quarta posizione Clio che con tutti questi scambi di posizione ha perso praticamente un posto lì in corda e si prosegue sulla retta di fronte ci avviciniamo al miglio adesso CRISPR comincia ad aumentare il ritmo alla gara 2 e 4 scarsi 32 e il penultimo quarto Canadian non perde una battuta Celeste Dante segue da vicino a precedere Clio Chanel delle Selve chiamata a maggior impegno in terza ruota Carlino Wise quindi Chanel SM si entra in dirittura arrivo con CRISPR che è in totale controllo Canadian che comunque sta lì a ridosso Celeste Dante in calo Clio che non è da correre a centropista si presenta bene Carlino Wise con ancora più a largo Camellia Jet siamo ai 200 finali scatto di CRISPR che in poche battute sprende diverse lunghezze di vantaggio e vince facile per il secondo posto e Camellia Jet precedere Carlino Wise Canadian Canada Wise è una Clio sfortunatissima che non trova mai da correre sul mio conometro 2.46 e mezzo che è tradotto in media al chilometro dovrebbe parlare da 1.15 e 6 CRISPR e sono 7 di fila e 3 da quando è arrivato in Sicilia i colori sono quelli del signor Rosario Valcaro il training di Giuseppe Zanca alla guida ancora una volta Antonino Pecoraro Junior facile successo del figlio di Napoli Oton Bar con buona gara che prova a tenere la testa a largo c'è Zilkoviacis che cerca di trovare posizione d'accordo e non ci riesce perché Bionda De Gleris fa valere il numero 1 avanza subito Best Lov AMG il lancio se ne va in 14.2 Best Lov punta subito in avanti e Zapata Rab prova a prenderne la scia ma resta comunque in terza ruota e quindi Buonagarre e Best Lov appaiati affrontano la curva iniziale 400 metri che se ne vanno in 28.3 Bionda De Gleris segue le due con Borra di Poggio in terza posizione ed ecco profilarsi la minaccia di Zapata Rab che avanza deciso in terza ruota 600 metri in 43.8 con una terziglia Buonagarre Best Lov Zapata Rab quindi di dentro invece Bionda De Gleris a precedere Bola di Poggio adesso si ritrae Zapata Rab dietro Best Lov 800 metri in 58.5 prosegue Buonagarre in avanti adesso ritorna all'attacco nuovamente Zapata Rab e comunque Best Lov è sempre lì che lo tiene molto a largo il chilometro se ne va in 1 12.8 Buonagarre Best Lov Bionda di dentro Zapata in calo Bora di Poggio senza spazio Artez a centropista Buonagarre sembra ancora bene in mano Andrea Buzitta che adesso comincia ad allungare Cala Zapata Best Lov prova a essere ancora agganciato poi si getta di galop a centropista si lancia invece Artez stacca Buonagarre prova a prendere vantaggio da Bionda De Gleris Artez è a largo di tutti il 7 di Acquatintafonte Buonagarre sotto pressione da parte di di Balio Collo che poi sbaglia sbaglia anche Best Lov a largo di tutti è invece il numero 7 di Acquatintafonte che viene a prendere il secondo dietro una maiuscola Buonagarre Buonagarre Andrea Buzitta i colori della magica SRLS il training di Tonino Pecoraro 1 56 e 3 quindi 1 12 e 6 il successo di Buonagarre di Galoppo Balio Collo e Best Lov a largo di tutti Acquatintafonte a prendere il secondo posto davanti al numero 5 di Artez poi Bona di Poggio e Zapata Rab Bona di Poggio Bona di Poggio Bona di Poggio Bona di Poggio